Io sono mia! Senti, Mario... Cosa? Stavo pensando... E se montassi io Saphir al torneo, intendo? Ma tu non hai granché esperienza con i cavalli, hai detto? Lo so, ma... Lui si fida di me, lo vedi anche tu. Sì, sì, è vero, l'ho notato. Che ne dici di farmi tentare? Se riesco a rimanere in sella, allora al torneo lo monterò io. E in caso contrario... Se non riesco a rimanere in sella e tu sì, dovrai necessariamente montarlo tu. E io ti allenerò, d'accordo? D'accordo. Ho portato il pranzo per tutti. Molto gentile da parte tua. Su, vieni dentro. Eccomi qua. Mi comporto come una nonna troppo premurosa. Lo so bene. E questo? Quello è per il dessert. Non è fantastico che Mario e mia si stiano allenando così seriamente per il torneo? Se vincessero risolverebbero un sacco di problemi qui attorno, questo è sicuro. Vieni. Buono, bello. Buono. 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 Mario, va tutto bene? Sto bene, nonna. Tutto ok. Sono solo... Spero che tu abbia imparato la lezione. Non si devono montare cavalli pericolosi. Sofia, è buono. Con alcune persone. Ma se non riesci a gestirlo, Mario. Io riesco a gestirlo. Sei sicura? Sì, certo. Ti faccio vedere. Stai attenta. Ok, abbastanza per oggi. Smonta. Visto? Sono davvero colpito. Che ne pensi? Per te va bene? Sul serio? Sì. 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 Sei pronta a seguirmi a Centopia? wheelbarnica. Ero! tutto il settore. Sì. Sì. Se no, ça va bene.